Ciao, siamo qui a Pila per la preview del tracciato dei campionati italiani 2018 e io sono Francesco Colombo, lui è Franchi Petrucci E non sa dove va Gaere Pista appena aperta Molto polverosa al V-Pike Park in questi giorni Dovrebbe essere uguale all'anno scorso Non ci vedo niente Inizio tecnico Direi come l'anno scorso Ora entriamo dalla parte XS Un pezzo ripido Hanno aggiunto un po' di terra Vecchie rocce Però si va via bene C'è la parte XS Andiamo nella parte coppa del mondo Work up di qualche anno fa Un aggiunto della terra per renderla un po' più facile Quindi alta è sempre bella tosta Anche qua un po' di terra E riusciamo di nuovo all'aperto Tratto bello con le sponde Molto polverose, scivolose Step up veloce Yo pendolo Franky è il king delle sponde Yo Mi parevano ancora aprire Ciao Sì Solti appena aperti, dovrebbe essere tutto ok Polvere E niente, qua L'arrivo del campionato italiano Pista bella e molto polverosa Ma ci aspetterà di sicuro un bellissimo weekend di gara Ciao